Cari amiche e cari amici di Foggia, mi vedete sono qui abbastanza abbagnato, sono in Trentino, a Trento dove pochi minuti fa c'è stata una bellissima manifestazione per dire no ai pesticidi. Ma perché vi sto mandando questo video? Perché a Foggia il 26 maggio c'è un passaggio molto importante per la vita di Foggia, ci sono le elezioni e io voglio che voi prendiate seriamente in considerazione di sostenere non solo un caro amico ma una persona per bene e preparata come Fabrizio Cangelli che si è candidato con una città per cambiare. Fabrizio è un ambientalista, un verde e farà molto bene per Foggia, abbiamo bisogno di persone come lui, vi chiedo quindi di sostenerlo, sostenete Fabrizio Cangelli, una persona, un verde a Foggia farà assolutamente bene e farà bene nell'interesse di Foggia, di tutti i foggiani, di tutte le foggiane. Per favore vi chiedo aiutatelo, sostenetelo e sostenete anche Europa Verde. Un abbraccio dal Trento.